Cristian Galano, è un momento delicato dopo il cambio in panchina, come avete vissuto questi ultimi giorni? Sicuramente quando viene suonerato un allenatore comunque dispiace a tutti, però ora dobbiamo dare una scossa perché in questo momento non stiamo afforando più le partite come prima, siamo troppo molli quando entriamo in campo e questo non va bene da parte di tutti, quindi ora ripeto, poi chi paga è sempre allenatore, poi in campo ci andiamo noi la responsabilità ce la prendiamo tutti, ora c'è il mister Le Grottaglie, speriamo di cambiare questa mentalità perché così non va bene Si è parlato anche di uno scollamento che c'era tra il gruppo e Zauri, è una lettura giusta, tu che fai parte appunto dello spogliatoio? Io non penso, anzi prima di tutto tengo a ringraziare il mister per quanto mi ha dato a me personalmente Ripeto, quando non arrivano i risultati purtroppo a pagare è sempre allenatore, ma quando abbiamo vinto con il Benevento, con il Pisa è sempre lui era, quindi alla fine sono i risultati quelli che pagano, il mister purtroppo ha pagato lui e a noi dispiace però ora dobbiamo cambiare rotta e dobbiamo andare avanti perché è cambiato ancora lungo, non è una sconvitta che ci deve demoralizzare perché è cambiato ancora lungo e possiamo ancora ambire a qualcosa di importante, dobbiamo fare più punti possibili comunque per salvarci il prima possibile e poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono Le Grottaglie, un pugliese come te, come si è presentato, qual è il suo impatto nello spogliatoio in questi primi giorni di lavoro? Il mister da poco, che comunque io lo conosco da poco, anche se è stato nel settore giovanile del Bari, anche come giocatore lo conosco quindi dobbiamo soltanto, ora in questi casi qua dobbiamo soltanto seguire quello che ci dice però in questi primi due giorni ci ha chiesto tanta intensità anche nei allenamenti, quindi di questo abbiamo anche bisogno e speriamo che già da sabato si veda questo Vediamo carico Le Grottaglie Assolutamente, assolutamente, il mister ci tiene a fare bene L'ultima, Pordenone, è la sorpresa e la rivelazione del campionato? Ti aspettavi che fosse così in alto, in zona Serie A addirittura? Purtroppo, sapete meglio di me, questo campionato ogni anno rivela sempre una squadra di rivelazione e quest'anno sta accadendo al Pordenone, è una squadra che abbiamo visto, una squadra ostica, compatta che il suo punto di forza è le ripartenze, non giocano questo gran calcio però è una squadra ben messa in campo che dobbiamo stare attenti e speriamo di andare a fare lì una grande partita come abbiamo fatto all'andata